Dopo il tavolo tecnico di giovedì pomeriggio in cui si è approfondita la proposta alternativa di tracciato proposta dai comuni di Chietia e Manopello, nella serata di ieri è stata trasmessa dalla coordinatrice del dibattito pubblico la documentazione relativa agli studi condotti dal gruppo di progetto Lotti 1 e 2 di RFI e Italferra, prodotta sulla base delle sollecitazioni e delle indicazioni ricevute dal territorio e confluite nello studio variante dei cittadini. Dunque novità per il raddoppio ferroviario Pescara-Roma dopo le polemiche ormai note il sindaco di Manopello Giorgio De Luca. La novità più importante è quello che si chiedeva da tempo, cioè spostare la ferrovia a raddoppio nella zona interporto, nel progetto RFI 2007 dove ci stiamo battendo oramai da tre mesi. Sappiamo benissimo che la soluzione di Manopello al centro abitato non sta bene a nessuno, non sta bene soprattutto alla città perché andrebbe ultimamente a dividere, a compromettere tutta la situazione di pianificazione futura perché ci sono demolizioni, ci sono tante cose che non vanno ma soprattutto non ci sarebbe più viabilità. Siamo contenti a questo momento perché hanno preso veramente in considerazione il progetto del raddoppio nella zona interporto della cosiddetta variante dei cittadini. RFI sta facendo un nuovo progetto e questo progetto da ieri è stato ufficializzato e quindi va nel dibattito pubblico. E' quindi una piccola vittoria. Sì, è una grandissima vittoria. Purtroppo il percorso sarà ancora lungo perché RFI ha tempi molto stretti. Questo è dovuto al PNNR che ai tempi entro giugno dovrebbero andare in conferenze di servizi, quindi approvare il progetto definitivo. I tempi sono stretti, quindi noi ci auguriamo che il nostro progetto sia veramente la soluzione alternativa al raddoppio delle velocità. Questo consentirebbe anche di togliere tutto il tracciato all'interno della nostra città, ma soprattutto anche Brecciarola, Manopello, per poi raggiungere attraverso lo sciano l'anno. Questo significerebbe anche dare maggiore velocità al treno perché invece di andare a 145 all'ora potrebbe addirittura raggiungere 250 all'ora. Il governo cosa ha chiesto? Niente, il governo ha chiesto integrazione sul via perché tutte le nostre osservazioni, perché noi abbiamo dato un parere fortemente negativo in quanto è molto imbattante, in quanto mancano valutazioni sulla rumorosità, sulle vibrazioni, sull'inquinamento acustico. Il via chiede questa integrazione del RFI e noi siamo fieri di quello che abbiamo fatto fino ad oggi perché queste criticità che abbiamo dimostrato sia dall'inizio si stanno venendo alla luce. Grazie.